Nel giorno dei lavoratori anche il Pontefice lancia un monito. Durante l'udienza generale in Vaticano per la festa di San Giovanni, il lavoratore Papa Francesco ha detto Penso a quanti, e non solo giovani, sono disoccupati. Molte volte a causa di una concezione economicista della società che cerca il profitto egoista al di fuori dei parametri della giustizia sociale. Francesco chiede ai politici di fare ogni sforzo per l'occupazione perché è una società che non dà lavoro ingiusta, ha detto, e non ha mancato di ricordare il Bangladesh con quello che ha definito lavoro schiavo.